E li ricordate i soldi? Quanti ricordi, eh? Che si metteva il portafoglio pure in tasca, vi ricordate? Eh, a Milano poi. E poi i soldi, se vi ricordate, erano dei due tipi. C'erano quelli di carta e quelli di metallo, le monete, che con i soldi ci si compravano le cose, vi ricordate? Che poi i soldi se ne davi di più, tu avevi diritto al resto, che erano sempre soldi, ma di meno. Che poi i soldi te li davano se facevi quella cosa. Oddio, come si chiamava? Era famosa, eh? Lavoro, è così bravo, lavoro. Come hai fatto a ricordartelo? Lavoro. Tu lavoravi e loro in cambio ti davano i soldi. Vi ricordate? Che forte che era, no? Che a dirlo oggi sembra una cosa, invece all'epoca tutti bravi. Che a dirlo oggi sembrava. Che a dirlo oggi sembrava.